Ma non è tanto ancora l'importanza, è importante, punto e basta, è una questione su cui secondo me non si può neanche dibattere il 25 aprile, il giorno in cui possiamo dire noi nasciamo come democrazia, come repubblica, dobbiamo a queste persone che sono morte, che si sono sacrificate, il fatto che oggi io possa essere Presidente della Camera, non essendo figlio di politici appartenente nel passato a nessun partito politico, quello che rende possibile le elezioni democratiche, i voti nei consigli regionali, nei comuni, rende possibile ai ministri oggi essere ministri, al Presidente del Consiglio essere Presidente del Consiglio, poter sempre esprimersi, poter parlare, avere le proprie libertà, i propri diritti e i propri doveri. Questa è la Repubblica che si è costruita sulle basi di questa resistenza, di questa liberazione e di un percorso che senza dubbio ha portato alla caduta del regime fascista, quindi noi siamo istituzioni antifasciste senza dubbio. Io dico che dire derby o dover dire sempre un 25 aprile ma è un qualcosa di assolutamente sbagliato, io da Presidente della Camera sono qui a Napoli questa mattina per celebrare il 25 aprile, ma idealmente sono in tutti i luoghi in Italia dove si sta celebrando il 25 aprile. Prossimamente sarò anche a Marzabotto, già l'ho detto perché avevo ricevuto un invito, però chiaramente non posso essere in tutti i luoghi, l'anno scorso era a Roma, oggi sono a Napoli e poi sarò a Marzabotto. Non c'è dubbio che secondo me non c'è discussione sul 25 aprile, noi siamo istituzioni che derivano anche dal 25 aprile, quello che noi possiamo fare oggi, la libertà di scegliere, la libertà di uscire, di comprare, di esprimersi, deriva da questo. Ci fondiamo come istituzioni sull'antifascismo e questo non è in discussione, che uno lo dica o non lo dica, cioè noi nasciamo da lì, quello che noi possiamo oggi e che possiamo fare oggi e che possiamo essere oggi deriva da una lotta contro il fascismo, contro il regime, contro le dittature, contro le leggi razziali, contro tutto quello schifo che è stato il periodo fascista. E l'Italia è risorta quando siamo entrati nella Repubblica, nella Repubblica Democratica, parlamentare, con una Costituzione straordinaria che guarda alle persone, ai diritti delle persone, alle libertà delle persone, senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di opinioni politiche. Questi sono traguardi enormi e sono traguardi che non dobbiamo mai dare per scontato, perché nella vita non si dà mai niente per scontato. È molto facile in un paese democratico, costituzionale, repubblicano, esporre uno striscione di quel tipo. Molto difficile sarebbe stato esporre per un democratico uno striscione che inneggiava la democrazia durante un regime fascista, quindi è troppo semplice. Per queste persone.